E' la paperina o? Buongiorno amici ascolta Wheeler Dimmi! Li mettiamo un po' facciamo sentire il motore qua dai eh E vieni vieni qua che non c'è Chi sei Marvin? Bravissimo! Ciao! Piacere Marvin! Eccoci qua! Dai! E dai vedi se lo mi hai riconosciuto Eh! Lo conosco sì! Lo seguo il tetto, i coltami E lo tra! Grande Marvin! Ecco qua, guarda qua! 5 euro di benzina mi viene eh! 5 euro? Eh! Spiegagli! Spiegagli mo! Chi è Marvin? Diggli no! E' quello che... E' quello che si prendi dai video! No, no! E' Rocco si prendi dai rottami vecchi perchè lui va sempre in giro a cercar rottami dappertutto e su internet dappertutto Bravissimo! Io tu eh! O saluta la mia amica Jo! Ciao Jo! Ciao Jo! Ti amiamo! Bravissimo! Spettacolo eh! Allora adesso prossimamente ti porto in alcuni luoghi molto ambicui preparati eh! Dove la ruggine e il DNA C'era la ruggine buona! Noi godiamo quando c'è ruggine! Perchè quando dico ruggine è vita! Esatto! E' vita! Spettacolo ragazzi! Guardate qua! Diretta dai! Come ti chiami te? Bellissimo Marvin! Grande! Emilio! Emilio! Casalgrande! Mio figlio! Andrea! Dai così dai! Vi vedete anche voi! Spettacolo! Ma stai scherzando? Eccolo qua! Eccolo qua! Guardate qua! Reno 4! Queste sono un po' le emozioni della fiera di Reggio Miglio! Bravissimo qua! Mi conosceva! Spettacolo! Ciao a tutti!